In arrivo 44.411 euro a favore di famiglie e di imprese messe a dura prova dal drammatico evento alluvionale del 2009 nella zona dell'Oltraserchio. Nei giorni scorsi la giunta Tambellini ha infatti sbloccato la procedura per la definitive allargizione di tale somma, stabilendo anche il metodo per molti versi innovativo con il quale i soldi stanziati saranno messi a disposizione dei destinatari. Nel dettaglio il Comune di Lucca delega il Comitato Uniti per l'Oltraserchio a costituirsi quale sportello per la distribuzione delle somme previste a famiglie ed imprese, presenti nell'elenco redato dagli uffici comunali secondo precisi criteri. In questo modo, dichiara l'assessore al bilancio Antonio Sichi, si semplifica e si velocizza la riscossione del denaro da parte dei cittadini, che ancora attendono di entrare in possesso delle somme che aspettano loro. Seguendo i principi di trasparenza e condivisione, il Comitato diventa così attore e partner del Comune, a vantaggio dei cittadini che potranno ricevere il denaro in tempi brevi. Unico compito dell'ente municipale adesso è quello di fare un versamento corrispondente alla somma totale al Comitato. Qui è stato chiesto, una volta terminata la consegna delle somme ai cittadini, di presentare una precisa rendicontazione e una firma per acquietanza di tutte le persone che hanno ricevuto il donaro, che era in sostanza il residuo del fondo che fu istituito subito dopo l'alluvione del 2009, cui partecipò tutta la popolazione lucchese.